Allora adesso abbiamo l'ultimo intervento con la dottoressa Irene Auletta che purtroppo per problemi familiari non è presente ma è in collegamento. Graziano puoi dare la linea? Ecco qua, ciao Irene, ci manchi? Eh anche voi mi mancate tantissimo, vorrei essere lì e anzi grazie per avermi permesso di poter esserlo anche a distanza vicini. Bene, allora magari non so se puoi dirmi Tommaso più o meno visto che io vi ho seguito a distanza, ho seguito gli ultimi interventi e quindi magari prova a dirmi se puoi quanto tempo più o meno ho a disposizione in modo da non rubare magari del tempo all'appuntamento che avete subito dopo. 17,30? Sì, 17,30, 17,45, vedi tu. Ah ok, così lasciamo magari sempre poi uno spazio anche per le domande, per dei commenti, per delle considerazioni. Sicuramente, perciò ti dicevo che quest'anno ci servivi proprio, abbiamo molte famiglie nuove, speriamo che anche a distanza riesci a sollecitare e quindi ti possono rivolgere delle domande, dei quesiti. Eh, allora, ecco, a maggior ragione allora cercherò di porgere un po' di riflessioni, di mettere a disposizione delle considerazioni ma anche con l'idea di lasciare un po' di spazio alle vostre domande e alle vostre considerazioni. E sicuramente salutarvi a distanza è un po' strano per me perché ormai negli ultimi anni questo di Assisi era un appuntamento assolutamente molto atteso, anche di grande piacevolezza, di grande interesse. E quest'anno purtroppo la vita ci si è messa di mezzo facendomi un po' uno sgambetto. Quindi diciamo che senza entrare nel dettaglio che evidentemente non voglio appesantire nessuno di voi, però ci tengo a dirvi che il motivo che mi tiene lontana e mi ha tenuto a distanza è un serio motivo di salute del papà di Luna. Quindi speriamo proprio che i prossimi mesi ci possano raccontare qualche cosa di diverso. Ma come sappiamo tutti bene, tutti noi, la vita irrompe e quindi a volte si può avere la sensazione che quello che stiamo vivendo è già abbastanza, è sufficiente, ma ogni tanto la vita invece prende il suo pravvento e aggiunge, aggiunge qualcos'altro da affrontare. Però io credo che poi anche questo diventa un'occasione per noi tutti per capire come farcela. Quindi io entrerei subito nel merito del tema e chiederei perfetto di poter essere accompagnata da qualche immagini. Ringrazio anche Graziano per la sua consulenza tecnica e per l'aiuto assolutamente che già mi ha offerto anche a distanza. Il titolo dell'incontro che appunto di questo momento di scambio, di confronto è proprio questo, dialogare con le paure, costruire il futuro nel presente. Perché? Perché come voi sapete, chi già mi conosce, ma questo lo dico anche invece per chi ha occasione, così per la prima volta di incontrarmi e di ascoltarmi, io ogni anno provo un pochino a pensare quali potrebbero essere degli spunti, delle riflessioni, dei temi che possono interessare e anche, come dire, attivare le persone presenti al convegno. E mi confronto sempre con Paola, mi confronto sempre con Tommaso, cioè cerco sempre di capire, anche di raccogliere, quelli che possono essere le esigenze che emergono. E devo dire che mi piace sempre pensare a dei temi che possono essere trasversali alla nostra esperienza nel rispetto di quelle che possono essere l'età dei figli, le caratteristiche particolari, i percorsi, le storie, il punto della storia in cui sono, ma andando a ragionare su quello che ci accomuna. E quello che ci accomuna è essere genitori di figli con disabilità, con la sindrome di Angeman. E allora ho pensato a dei sentimenti quest'anno, ma come spesso mi accade, mi piace ragionare, e poi so che il convegno è sempre ricco, è sempre ricco di tanti pensieri, di tanti dati, di tante informazioni. E allora ogni tanto a me piace anche portare un altro sguardo che magari va un po' ad esplorare quelli che sono i sentimenti. Perché credo che quelli che accompagnano, sono tanti i sentimenti che hanno accompagnato e che accompagnano la nostra esperienza di genitori. E credo che molti di questi sentimenti abbiano a che fare con la paura. La paura che prende diverse forme, ma spesso si traduce con delle domande, o si nasconde anche dietro alcune domande. Allora penso a quelle che magari io stessa mi sono fatta e che ho sentito risuonare nei racconti di tanti, tanti genitori che ho incontrato in questi anni, perché voi sapete, o ve lo dico adesso per chi non lo sa, che la mia esperienza è un'esperienza di madre, di una giovane donna di quasi 26 anni, fra pochissimi giorni. E' un'esperienza però un pochino più lunga come pedagogista e quindi il mio incontro con le famiglie è iniziato prima del mio incontro con le famiglie come genitore. Quindi il mio percorso in questi ultimi anni tende a mettere insieme queste due dimensioni e devo dire che è un incontro molto bello che le arricchisce reciprocamente, almeno io credo. E quindi le domande che io, ripeto, mi sono fatte e ho raccolto, spesso sono domande del tipo ma riuscirà a superare questo problema mio figlio o mia figlia? Ma potrà mai raggiungere questo obiettivo? Quanto ci vorrà? E soprattutto ce la farà? Ce la farà a stare bene in quel determinato contesto? Potrà essere in grado di fare quella determinata cosa? E chi si potrà occupare di lei? Quando di lei, di lui, oltre a noi genitori? Ecco, queste sono le domande che secondo me è interessante avere in mente e dal mio punto di vista non sono domande tanto legate all'età dei figli. Perché adesso il signore che è intervenuto, che ho sentito, le chiedo scusa ma non ho trattenuto il suo nome ma se non sbaglio lei ha una figlia che si chiama Alessia, se ho capito bene, se la memoria non mi ha fatto uno sgambetto perché stavo cercando anche di capire come collegarmi mentre l'ascoltavo. Ci sono delle questioni che in realtà non riguardano i genitori a seconda dell'età dei figli o almeno alcune sì sono molto specifiche ma altre sono veramente trasversali. Alcune domande se le pongono i genitori che hanno bambini piccoli ma se le pongono anche i genitori che hanno figli grandi. E su questo aspetto delle paure del futuro a me piacerebbe proprio creare una linea che unisce tutti i genitori da chi ha i bambini piccoli e chi ha i bambini più grandi. Perché in realtà questo tema della paura, della paura di che cosa può succedere ai nostri figli, di come possiamo aiutarli e di come possiamo aiutarli a stare senza di noi è veramente un tema trasversale o perlomeno è un tema che a me piacerebbe non arrivasse solo quando i figli diventano grandi e di conseguenza i genitori un po' anziani o maturi a seconda di come ognuno si percepisce ma mi piacerebbe che potesse essere veramente una domanda che si condivide sin da subito perché noi abbiamo veramente tante volte molta paura delle parole, delle parole e dei sentimenti che queste parole portano con sé e invece io credo che il fatto di poterne parlare, di condividerle, di nominarle finisce anche col permetterci di far diventare le parole, i sentimenti un po' meno pesanti. Come ci dice questa bellissima frase che ho raccolto nella seconda immagine che adesso spero che tutti voi possiate vedere che sarà una frase che sicuramente avete già sentito vediamo se Graziano riesce a proiettare la seconda immagine ecco, l'avrete già sentito, è una frase bellissima questa le favole non dicono ai bambini che i draghi esistono perché i bambini lo sanno già le favole dicono ai bambini che i draghi possono essere sconfitti a volte i pensieri che riguardano i bambini ci riguardano tantissimo come adulti e questa stessa frase vale anche per noi, vale anche per noi adulti perché tante volte abbiamo paura di parlare delle nostre paure con il timore che parlare delle nostre paure le faccia diventare ancora più paurose in realtà tutti noi abbiamo probabilmente sperimentato e anche il ritrovarsi in occasioni come queste del convegno spesso, spesso aiutano anche in questo che potersi raccontare le proprie preoccupazioni, le proprie paure, le proprie difficoltà anche le proprie gioie, anche i propri successi in realtà adesso per quel che riguarda le paure spesso aiuta un pochino a ridimensionarle aiuta ad affievolirle, certo poi ognuno deve conviverci con le sue paure se le deve tenere, le sue preoccupazioni però la possibilità di trovarsi in un luogo dove anche senza dirselo si può sentire e condividere questo non è solo dire, è sentire che tutti siamo uniti da un filo di intesa profonda anche nel silenzio come ci insegnano i nostri figli una ricchezza straordinaria che possiamo cogliere anche nel loro silenzio se non siamo troppo più preoccupati del fatto che non hanno le parole se non siamo troppo preoccupati delle nostre paure perché non le hanno quindi tornando a questo, diciamo a questo aspetto della paura quello che io trovo che può essere molto interessante e soprattutto quello che mi piacerebbe provare un po' a condividere con voi è come andare a riprendere, un po' provando a sdrammatizzare ma anche un po' a togliere un po' di miticità secondo me a questo aspetto a tutto quello che negli anni, già da parecchi anni ha preso un nome che secondo me è stato un po' forbiante cioè il futuro dei figli, dei figli con disabilità spesso ha preso il nome, incarna un nome che molti di voi avranno sentito, che conosco benissimo che è il dopo di noi dopo di noi che negli anni è diventato dopo di noi, durante noi tutto vero tutto quello che porta a questo dopo di noi in realtà però a me piacerebbe aggiungere un'altra sfumatura perché il dopo di noi che cos'è che fa prefigurare? Il dopo di noi fa prefigurare i genitori anziani fa prefigurare qualcosa che ha a che fare con la morte anche dei genitori oppure con un'anzianità tale che non rende più possibile ai genitori di occuparsi dei propri figli insomma fa prefigurare uno scenario che è uno scenario anche di molto dispiacere di tristezza, di malinconia, di preoccupazione perché è qualcosa che riguarda cioè finché noi possiamo ce ne occupiamo noi dopo di noi quando cioè noi non ce ne potremo più occupare chi potrà occuparsi dei nostri figli? In realtà questi progetti il progetto dopo di noi è un progetto estremamente interessante perché è un progetto che nasce come un percorso di emancipazione dalla famiglia un'emancipazione che vuol dire anche permettere a tutti i figli anche i figli con disabilità di essere garantiti nei loro diritti di libertà di libertà di emanciparsi emanciparsi dai genitori è una libertà è un dono è una possibilità difficile? non sto dicendo che è qualcosa di facile però sto dicendo che noi forse possiamo un po' ridimensionare oppure no meno a me piacerebbe farlo insieme io ci sto provando da tanti anni ridimensionare l'idea che preoccuparsi del futuro dei nostri figli voglia dire preoccuparsene quando loro sono abbastanza grandi e noi abbastanza maturi diciamo così per non dire anziani e allora che cosa succede? invece io credo che questo percorso noi dovremmo iniziarlo da subito con i bambini piccoli ed è in questo che ad esempio chi di voi in sala ha bambini piccoli si senta già coinvolto in questa riflessione che non è una riflessione o questioni che si dovranno porre insomma quando i figli saranno grandi o quando noi saremo anziani perché non è questo vuol dire veramente guardare questo aspetto solo facciandosi a una finestra a me piace invece pensare che le finestre a cui ci possiamo affacciare sono tante che quindi chiedersi ad esempio ma con chi può fare questa esperienza diversa anche il nostro bambino piccolo cosa può imparare attraversando diverse esperienze conoscendo altre persone facendo altre come dire potendo sperimentare altre relazioni che non siano solo quelle di stare con la mamma o col babbo e soprattutto il bambino come tutti noi dico cose che sappiamo ma che è importante che ci come dire che assumiamo fortemente anche come possibilità di libertà perché io penso che noi ci preoccupiamo di tante cose che riguardano i nostri figli la salute, farli star bene, proteggerli e forse dare a loro la possibilità di sperimentare una libertà che vuol dire libertà da noi da noi genitori, dalle mure domestiche da quelle esperienze che sono sicuramente quella zona di conforto, di sicurezza e che ci mette di fronte alle nostre paure vuol dire davvero fare un regalo ai nostri figli e credo che se un bambino da piccolo inizia a fare piccole esperienze naturalmente di piccole libertà, di sperimentazione di altre reazioni, di altre esperienze può iniziare a fare una cosa bellissima che fanno tutti i bambini crescendo che iniziano a scoprire pian pianino che a seconda dei contesti in cui sono e delle persone con cui sono in relazione possono esprimere diverse parti di sé diverse visioni di sé ma questa è una cosa che se ci pensate facciamo tutti noi tutti noi, se provate a pensarci ognuno nella sua testa naturalmente una sua riflessione nella mente noi abbiamo diverse persone con cui stiamo bene parlo di contesti in cui stiamo bene c'è chi ci aiuta a ridere c'è chi ci aiuta magari a parlare di una nostra difficoltà del momento c'è chi ci fa vedere magari le nostre capacità anche sul lavoro chi ci incoraggia, chi ci sostiene chi ci deprime, chi ci fa incavolare cioè e a seconda delle persone con cui siamo noi possiamo esprimere delle nostre parti diverse noi non siamo sempre uguali nei contesti anzi la nostra ricchezza nasce dal fatto che possiamo attraversare contesti diversi e fare tanti incontri anzi più incontri facciamo più diventiamo persone ricche diventiamo persone con tante sfumature credo che questo ognuno di voi se lo possa dire poi mi direte se è vero se vorrete prendere la parola o se è una mia fantasia ma non credo e perché questo non possiamo garantirlo ai nostri figli anche se sono persone con disabilità anche se sono piccole persone con disabilità o grandi persone con disabilità certo succede una cosa molto interessante con i nostri figli cioè di fatto i bambini crescendo i bambini che non vivono una condizione di disabilità crescendo questa esperienza la fanno da soli nel senso che da soli si cimentano con delle piccole esperienze di separazioni iniziano a chiedere ai genitori piccole libertà iniziano a voler prendere piccole distanze dai genitori ecco diciamo che quello che può essere per noi io penso molto interessante come genitori è essere sempre di più consapevoli che questa parte i bambini non la possono fare i nostri figli non la possono fare da soli e quindi è una parte che è importante che sia proprio nella nostra mente di genitori per poter pensare a quelle situazioni a quelle occasioni che noi possiamo offrire ai nostri figli ma io penso che moltissime persone nella sala adesso stanno già pensando a tutte le cose che fanno per i loro figli quando vanno a scuola quando vanno ai centri recreativi ai centri estivi alle esperienze che fanno nei vari centri ludici alle vacanze da soli tutte esperienze però che noi dobbiamo proprio immaginarci che siano proprio delle esperienze creative di possibilità e che generano nel bambino che man mano cresce la possibilità di ritrovare delle radici come ben ci indica un'immagine che ho voluto scegliere anche questa per parlare e per parlarvi di qualcosa che sicuramente tutti voi potete ritrovare in una risonanza e vediamo ecco creare radici profonde perché quando le radici sono profonde non c'è ragione di temere il vento ecco ogni volta che noi creiamo per i nostri figli e le nostre figlie delle esperienze ripeto sin da piccoli delle esperienze in cui possono sperimentare di fare qualche scoperta senza di noi di doversi ingegnare senza di noi di doversela cavare senza di noi quando lo iniziano a fare mentre noi ci siamo mentre noi possiamo essere la loro base sicura il loro punto di riferimento succede che in questo movimento di andare e venire noi possiamo aiutarle a rinforzare le radici le radici che un giorno dovranno probabilmente tenerli anche quando noi ci allontaneremo un pochino quando queste esperienze le faranno sempre un pochino di più senza di noi o quando addirittura le dovranno fare che noi non ci saremo più non necessariamente perché saremo già morti o ma semplicemente perché magari arriverà anche a un certo punto in cui a una certa età sarà importante per noi pensare che le nostre strade non definitivamente si potrebbero separare a me piacerebbe so che sto parlando di qualche cosa che tocca sempre fa fatica a tenere solo a rimanere solo nella mente perché tocca il cuore tocca la pancia ci fa venire un'agitazione ci fa aumentare le pulsazioni ci crea emozioni e penso che sappiate benissimo che quello che dico mi riguarda ci riguarda ma questo non vuol dire che questa parte così emotiva ci debba fermare e debba fermare la creatività della nostra mente perché quello che noi stiamo facendo e possiamo fare con i nostri figli sin da piccoli è far diventare sempre più profondi queste radici radici che nella libertà che possono sperimentare senza di noi un giorno li terrà forti in quella possibilità di resistere a un vento quando ripeto noi non ci saremo più e non so forse non bisogna avere troppa paura di questo e soprattutto i genitori giovani possono sentire in questo di avvicinarsi anche con un pochino più di leggerezza al tema è chiaro che magari dopo una certa età la cosa ci può un po' preoccupare sempre di più e qui mi metto già dopo una certa età non so ma come dire penso che dopo i 60 un filino mi posso mettere dopo una certa età ma quello di cui ho fiducia sono le radici le radici su cui sto lavorando ma non solo come genitore anche naturalmente ma sono le radici che vado a nominare ogni volta che incontro i genitori nella speranza che anche loro le possano rinforzare queste radici e che possano davvero permettere ai loro figli di essere così come le vedete come quelle foglie al vento che hanno la forma di cuore che possono andare un po' lontane senza di noi e quindi pensare al futuro vuol dire questo per me costruire il futuro nel presente vuol dire che noi già nel momento del presente indipendentemente ripeto dall'età dei nostri bambini e lo voglio ripetere perché questo dopo di noi è sempre troppo stato pensato per figli adulti e quindi ripeto genitori grandi invece il futuro si costruisce da subito il futuro si costruisce già con i bambini piccoli e già i bambini piccoli possono sperimentare piccole separazioni dai genitori naturalmente se le hanno risperimentate man mano che diventeranno più grandi saranno sempre più forti nel poter affrontare separazioni un pochino più grandi è chiaro che se un figlio di 20 24 anni 25 anni inizia per la prima volta a sperimentare una separazione dal genitore voi capite che questo poterebbe diventa una prova molto difficile cioè diventa qualcosa non di impossibile ma più difficile che carichiamo sulle sue e sulle nostre spalle nel suo e nel nostro cuore farlo precocemente per me è una bella forma di allenamento e quindi credo davvero che questo ci riguardi ci riguardi tutti ed è questo così questo sguardo di fiducia a questo futuro che io vi vorrei vi vorrei portare proprio nella possibilità di di credere che i nostri figli esattamente come accade a tutti gli altri figli che crescono hanno bisogno di andare lontani da noi hanno bisogno di sperimentare hanno bisogno di trovarsi in difficoltà hanno bisogno di capire come cavarsela da soli senza senza la nostra presenza che subito risolve il problema hanno bisogno di cadere e hanno bisogno di provare a rialzarsi e se accade quando noi ci siamo noi saremo lì a prenderli per mano e a consolarli a rassicurarli e ad aiutarli a riprovare ancora e ancora e ancora perché lasciarli io credo che sia veramente un grandissimo gesto d'amore e qui arriviamo con quest'ultimo pensiero che vi vorrei dedicare proprio pensando che ogni volta che noi ci ci permettiamo di creare delle occasioni per permettere ai nostri figli di essere sereni e felici anche senza di noi stiamo davvero permettendo a loro di trovare delle nuove occasioni in cui possono provare anche senza parole a raccontare qualcosa che comunque possiamo fidarci possono raccogliere nel loro cuore e come dice Murakami uno scrittore che mi piace moltissimo il cuore umano a me dà l'impressione di un pozzo profondissimo nessuno sa cosa ci sia laggiù si può solo cercare di immaginarlo dalle cose che ogni tanto vengono a galla grazie e qui vi aspetto aspetto i vostri commenti le vostre considerazioni le vostre domande spero si sia sentito bene l'audio no benissimo benissimo io ho la prima cosa ti faccio gli auguri per Igor te li facciamo tutti quanti come orse che risolvi quanto prima grazie grazie ok e quindi lo so che è difficile a distanza ciao ciao sono la Marisa ah Marisa ciao concordo con quello che tu dici effettivamente il fatto di dare la possibilità ai nostri figli di iniziare da piccoli a fare delle esperienze è molto importante io ad esempio ho iniziato con otto anni Marco mancano le possibilità di andare in certi posti mentre prima tu quando erano piccoli potevi metterli assieme agli altri ragazzini no della stessa età adesso con 30 anni chi c'è che va in un centro o va in una cioè in una struttura hai capito un po' adatta quindi effettivamente iniziare quando sono piccolini è una cosa positiva e devo dire che è stata un'esperienza molto bella per 15 anni e devo dirti che ha maturato anche tante cose ha imparato anche altre cose stare anche senza la mamma assolutamente assolutamente certo hai ragione più crescono più diventa difficile però ad esempio io diciamo questa cosa a cui avevo pensato e che avevo già in qualche modo anticipato se fossi stata presente avevo pensato di poter intervistare una mamma che ha scritto di recente un libro dove racconta la sua storia con l'incontro di una bambina con questa figlia con la sindrome di Angel ma qualcuno di voi questo libro già sicuramente lo conosce o l'ha sentito Chiara Punzel è un libro che evoca molte diciamo così già evoca un sorriso solo il titolo e io avevo contattato questa mamma proprio per chiederle la possibilità di intervistarla magari non riusciamo a farlo quest'anno sicuramente non riusciamo ma chissà magari l'anno prossimo in un'altra occasione ce la possiamo fare quest'estate mi trovavo in un in un centro vacanza dove ho accompagnato mia figlia per fare un'esperienza dove vuol dire di semi autonomia nel senso che comunque io ero presente ma lei durante il giorno stava con questi operatori in un'esperienza che ha fatto e una sera mi sono sentita la prima sera in un'occasione di ritrovo tra i genitori mi sono sentita chiamare ma da una persona che io stavo guardando dicendo ma io questa persona l'ho già vista ed era la mamma di Chiara e ci siamo quindi conosciute così in questo luogo la sua bambina piccola stava facendo un'esperienza di autonomia la mia ragazza grande stava facendo la stessa esperienza di autonomia diciamo che diventa sempre più difficile trovarlo ma ci sono e io ho proprio pensato questo caspita che bello che Chiara può iniziare a fare questa esperienza così da piccola perché sicuramente questo le porterà una ricchezza e una risorsa che magari ecco iniziare più tardi poi diventa più difficile per alcuni ragazzi però io credo che se noi genitori siamo convinti di cercare di provare e di sperimentare possiamo aiutare i nostri figli anche ad affrontare piccole o grandi difficoltà inizialmente anche magari non proprio lasciandoli soli ma un allontanamento graduale ecco naturalmente non si tratta di dire beh dia un mese per la prima volta non ci vediamo mai più ecco però iniziare da piccoli sicuramente è una bella risorsa quindi già otto anni e poi cercare di capire come aiutarci anche tra di noi mettendo insieme le esperienze che stiamo facendo a condividere quelle situazioni dove anche i figli grandi adulti possono andare senza di noi posso ciao Irene sono Nives mamma di Chiara non quella Chiara un'altra Chiara si 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 la so che si chiama Emanuela la mamma di Chiara ah ok ti faccio i complimenti per quello che hai detto perché è sempre veramente molto molto toccante e vai sempre a fondo in particolar modo parlando del dopo di noi e ne hai dato una visione veramente profonda per i giovani per le famiglie giovani perché giustamente bisogna cominciare quando i bambini sono piccoli e poi hai parlato di persone con disabilità è importante perché noi parliamo sempre il bambino il ragazzo ma loro sono tutti quanti delle persone ricordiamoci abbiamo la convenzione ONU adesso si bisogna ricordare perché la persona vuol dire che è una è un'entità ognuno diverso dall'altro che ha dei sentimenti delle capacità dei pensieri e vuole vivere la propria vita e quello che tu hai detto noi dobbiamo imparare a fargliela vivere la vita perché ne hanno una voglia tremenda quindi le vacanze possono essere un elemento faticare da quando è 18 anni ci va e non aspetta altro che andare in vacanza da solo 15 giorni quello che è grazie grazie Irene per quello che hai detto ma loro hanno voglia di stare anche senza di noi ed è bellissimo che abbiano questa voglia perché tante volte siamo noi che la inibiamo perché abbiamo noi paura a farli stare senza di noi quindi ecco aiutiamoci però anche nel dire madonna che paura sta roba qua Dio la prima volta che preoccupazione senza vergogna almeno penso che possiamo permetterci di fare questo senza aver troppa paura delle nostre paure questo sicuramente ne approfitto un piccolo inciso stamattina parlavo con una mamma che diceva sulla CA ma il terapist dico guarda secondo me la mia esperienza e mi fa piacere che hai ripreso questo tema per CA incominciamolo a tradurre riconoscimento della persona che quello è il primo approccio di comunicazione con i nostri figli io lo dico perché ho un figlio di 36 anni quindi mi dispiace che l'ho scoperto troppo tardi che riconosce la persona però sono felicissimo anche in ritardo esatto esatto o perlomeno io penso che non sia mai troppo tardi Tommaso non sia mai troppo tardi ciao Irene Evaristo ah ciao Evaristo il babbo di Lorenza grazie che vi presentate perché vi vedo piccoli piccoli quindi mi aiutate a capire di Lorenza 22 anni noi abbiamo sempre fatto fare a lei delle vacanze in autonomia assoluta ci siamo anche noi ritagliati dei periodi che può essere una settimana non di più per farle farle vivere una un'autonomia una vita autonoma quest'anno in particolare è stata al mare da sola con gli aiuti noi andavamo il venerdì sera ma la cosa pazzesca è che quando noi andavamo il venerdì sera lei non gradiva tanto la nostra presenza cioè il fatto che noi ci inserivamo nella sua routine e lei che era abituata a svegliarsi ormai alle 10 di mattina con la sua tata quindi rimaneva da sola con noi si svegliava alle 6 e ci dava fastidio e ha espresso abbiamo costruito con Aurelia Rivarola proprio il sentimento sulla CA sulle tesserine della CA della rabbia e lei ora prima che prende il telefono e lo scaraventa a tantissimi metri di distanza per poi rialzarsi riprenderlo e cercare di scaraventarlo ancora più lontano segna la rabbia la rabbia guardando e indicando me e mia moglie quindi penso che lei abbia ormai bisogno di una autonomia questo mi fa anche piacere perché poi mi fa essere più ottimista su quello che può essere anche a me non piace la parola il dopo di noi ma quella che poi invece può essere una sua a vita autonoma perché può essere mi dà più serenità mi dà più tranquillità di dire ma comunque lei è una persona con una sua identità è una sua è un suo carattere che quindi si saprà trovare bene nelle situazioni a cui andrà incontro quindi questo penso che sia veramente molto molto illuminante quello che hai detto oggi perché effettivamente è un qualcosa su cui un po' tutti forse della della mia generazione ma io spero anche i giovani si debbano rendere conto e noi ce ne stiamo rendendo conto ce ne siamo resi conto sì noi dobbiamo proprio forse fidarci di più dei nostri figli dobbiamo essere noi i primi a fidarci di più e soprattutto dobbiamo essere consapevoli che il nostro amore e qui veramente parlo parlo ce l'ho nella carne questa cosa che dico non è solo nella mente che il nostro amore a volte può creare delle inibizioni e un legame che non permette ai nostri figli di lasciarci e quindi poi certi comportamenti nascono proprio nella relazione con noi cioè io tante volte ma ripeto credo che tutti noi ce lo siamo sentiti dire mi sono sentita dire ma quando lei non c'è completamente diversa mia figlia ha due anni che va dalla parrucchiera ormai non le taglio più io perché a un certo punto ho detto basta perché bisogna andare a diventare grandi va dal parrucchiere accompagnato dalla signora che sta con lei che mi aiuta l'unica volta che questa signora prima dell'estate ha avuto un problema l'ho accompagnata io cioè non vi dico cosa ha fatto nel salone di bellezza mia figlia ve lo risparmio so che il parrucchiere il mese dopo quando ho rivisto la signora ha detto mamma mia per fortuna che sei venuto tu perché con la mamma è stata una cosa impossibile e io ci ho sorriso di questa cosa però dico Irene pure a te Lorenza ti ha dato un messaggio così preciso prendene atto figlia mia e tu ci vai lì quelle tante per andare un po' da solo e tu la vai a dare a festività della domenica eh madonna lasciamoli stare ciao Irene vediamo se mi riconosci allora intanto grazie per regalarci questi sorrisi nonostante tutto io voglio fare un complimento ad Orsa perché io ho imparato ad essere quello di cui sta parlando Irene proprio qui Matteo è stato uno dei primi neonati a salire sul pullman con la croce rossa e io ero disperata perché vedevo tutti gli altri non volevo restare indietro nel senso che ero molto interessata al convegno ed ero consapevole che se io fossi rimasta con mio figlio non avrei potuto seguire il convegno quindi l'ho fatto un po' con un atto di egoismo praticamente che è poi quello che dovremmo veramente cominciare a pensare perché quello che io vivo con i genitori cerco sempre di spronarli è che noi non siamo nati per vivere per i nostri figli noi siamo nati per essere i genitori dei nostri figli ma prima di definire persone loro siamo noi delle persone e ci priviamo noi totalmente delle nostre vite per seguire per seguire i nostri figli tu sai che io sono un esempio da questo punto di vista perché Matteo fa tantissime cose ma ho dovuto veramente mettere da parte tantissime paure ecco il coraggio lo dobbiamo cominciare a prendere proprio pensando questo cosa ho ottenuto oggi oggi ho ottenuto che mio figlio aspetta di venire al convegno per andare a fare la gita quindi la mia paura è servita a creare una routine che a lui fa piacere ma è stato un allenamento reciproco continuo con questo non ti voglio dire che parlare del dopo di noi mi lascia serena quello è secondo me un mondo veramente tanto a me è una parola che mi fa proprio paura ma perché perché io so quanto sto regalando l'indipendenza al mio figlio oggi che ci sono mettendo tutti i tasselli a posto perché sono una maniera del controllo lo ammetto tutti i tasselli a posto perché lui possa essere veramente soddisfatto delle sue uscite delle persone con cui va ecco è il pensiero del dopo di noi senza di me che sono lì a sistemare tutto e soprattutto pensare di potermi fidare delle brave persone come oggi ci sono sul pulmo con i nostri figli questo a me mi atterrisce ecco lì lo vedo nella sua stronzaggine un indifeso e lì soffro tanto sì questa cosa che dici è profonda è vera condivisibile assolutamente al 100% però io credo che questo seminare comunque parte da un dato di realtà cioè nessuno di noi è immortale cioè noi speriamo anche di arrivare anziani in forza lucidi di non ammalarci che non ci siano gli incidenti di percorso però sappiamo che la vita non è questo quindi veramente a volte dalle mie parti si dice darsi i pizzichi sulla pancia andare avanti per il bene dei figli credo che a volte dobbiamo essere capaci di fare questo senza però nasconderci tra di noi anche tutti i sentimenti di difficoltà che comunque viviamo sempre tutti noi quindi altro che fa paura altro che fa paura buongiorno mi chiamo Nicola ho una bambina di due anni affetta la microdelezione non la sento più Nicola sentire adesso sì ecco sentire questi discorsi mi fa stare molto bene perché noi stiamo cercando di costruirci attorno una famiglia numerosa affinché affinché un domani mia figlia non possa quando io non ci sarò più so che non la lascerò sola mi capita di confrontarmi con coetane con amici che quando esprimo i miei pensieri e dico mi dicono ma sia un pazzo hai già tre figli adesso la mia compagnia è incinta al sesto mese la gente mi guarda stranito dicendomi stai già pensando per tua figlia quando non ci sarei più io adesso ci voglio pensare a mia figlia certo quindi sentire questi argomenti mi dà la forza di andare avanti nel mio progetto certo certo io la ringrazio perché ho detto che è bello non avere paura delle nostre emozioni e lei qui ci sta veramente mettendo a disposizione l'emozione che nel nostro cuore guardi sta risuonando tantissimo no cioè poi facciamo un po' ci teniamo per aiutarla perché sennò tutti se ci lasciamo andare all'emozione però quello che lei sta facendo è nel contesto familiare e io lo rispetto tantissimo mi viene da dire che è importante che questa questa forza questa ricerca la facciamo anche fuori dalle famiglie perché anche i fratelli adesso non voglio aprire un altro capitolo i fratelli i parenti devono poter esserci con un po' di leggerezza non sentendosi un peso sulle spalle che qualcuno li mette già da piccolini sapendo che si dovranno occupare di ci possono essere davvero delle realtà dei servizi dei centri che possono essere di sostegno e possono offrire comunque una sponda di aiuto anche ai familiari quindi se ci sono i familiari disponibili anche oltre i genitori è bellissimo quando questo accade ma non lasciandoli da soli mai perché altrimenti diventa veramente una fatica pazzesca e se noi amiamo anche i nostri familiari gli altri i figli e chi ci può dare una mano anche per loro dobbiamo continuare a costruire delle possibilità infatti aggiungo che secondo me per noi che abbiamo i figli grandi li abbiamo fatto sulla nostra pelle la nostra esperienza con ritardo con sai oggi il mondo social è molto attivo cioè il mondo è diventato piccolo però quello che credo come consiglio mi sento di dare è quello lì che dobbiamo crescere culturalmente è che non abbiamo già noi genitori non abbiamo la cultura verso i nostri figli perché già noi ci poniamo in un modo protettivo in un modo di sostituire in un modo che poi nel tempo facciamo questa questa cosa no io dico sempre con mia moglie glielo dico sempre sono sposato sono 37 anni dico io i primi 17 anni tu non ci sei stata perché stavi con tuo figlio però abbiamo verso 17 anni 17 anni noi e abbiamo rubato 17 anni a lui quindi in particolar modo per i giovani perché a volte parlare dopo di noi si pensa subito io muoio dove viene chiuso no dopo di noi significa proprio lasciarli vivere ecco e mi fa piacere che riutilizzo mi faccio mia la tua parola persona cioè riconoscere in loro la loro persona con le loro difficoltà e la nostra certo riconoscere la loro si riconosce sicuramente la loro sì quello che ha espresso prima scusami Ivano ciao ciao Ivano quello che in modo così molto diretto ha espresso prima è nel cuore di tutti solamente che bisogna cominciare a ragionare in modo completamente diverso bisogna ragionare che i nostri figli devono avere un futuro e per cominciare a ragionare che devono avere un futuro dobbiamo cominciare a farlo da subito immediatamente perché bisogna cominciare a metterci in testa delle parole che adesso pian pianino stanno entrando anche nella società tipo progetto di vita non è una parola a caso stanno cominciando ad essere termini di legge il progetto di vita ma stabilire un progetto di vita non lo deve stabilire il funzionario che non conosce la persona semplicemente da un foglio di carta con soscritto una diagnosi non è quello il progetto di vita il progetto di vita è uno strumento che dobbiamo costruire dall'inizio da subito con il nostro figlio con il territorio con le istituzioni con tutto il mondo sociale e non per permettere un futuro al nostro figlio un futuro più vicino possibile alle possibilità economiche finanziarie e anche intellettive e anche possibilità proprie del ragazzo dobbiamo vestirgli creargli un vestito attorno a lui ma un vestito che non deve portare a lui deve portare la società attorno a lui domani parleremo anche di questo domani c'è la parte che molti dicono ma non ci riguarda perché parliamo con un giudice domani avremo un giudice tutelare importantissimo viene dalla mia città da Treviso e la ringrazio già adesso per aver accettato di venire è una persona che decide sui nostri figli nel tribunale quella che ci sarà domani però insieme a lei sono contento perché è tornato qui c'era già l'anno scorso un avvocato che fa tutte le pratiche diciamo non di tutti praticamente sono quasi sparite il tutore non esiste praticamente più e sono tutti quanti amministratori di sostegno perché c'è una dignità diversa in questo a livello legale proprio ma a parte questo ci sarà anche che l'anno scorso non è potuto venire ci sarà anche la dottoressa Baldasso che parlerà proprio di co-housing di co-housing i nostri figli nel co-housing no ma c'è c'è un mondo dietro al progetto di vita che bisogna modulare in funzione delle capacità e delle possibilità di nostri figli cioè non è più legato all'RSA cioè residenza sanitaria assistita o comunità alloggio per gravi o gruppo appartamento per i motori per capirci perché se andiamo dentro in questi tre contenitori è come noi tutti che siamo qui uno diverso dall'altro entrassimo in tre contenitori è impossibile perché ognuno di noi è diverso ognuno di noi ha la propria sensibilità capacità intelligenza e per cui è impossibile che noi ci mettiamo tutti dentro tre contenitori ma questo dobbiamo costruirlo da subito da subito dobbiamo cominciare a cambiare noi e il mondo costruendo un progetto di vita che dia un futuro ai nostri figli anche senza di noi grazie grazie ok allora io Irene proporrei una cosa perché il tuo supporto è sempre di aiuto perché noi adesso dobbiamo fare pensare anche alla nostra orsa quindi all'attività e quindi parte ti ringrazio sempre e ti rinnovo gli auguri per Igor e spero quanto prima risolve sarai con noi e se puoi rimanere lo stesso collegata che magari c'è qualche idea puoi intervenire così abbiamo l'opportunità di di creare le attività per l'anno prossimo va bene ti ringrazio con piacere grazie a voi e ti volevo salutare la nostra amica in comune ciao Irene ciao grazie grazie tu sai perché sì anche tu sai perché grazie anche a te grazie davvero ok grazie grazie a Irene grazie a voi tutti e buon proseguimento e godetevi tutto il convegno assisi la compagnia le risate e tutta la bellezza che c'è intorno a voi quest'anno ci sei mancato veramente anche perché quest'anno siamo 200 persone quindi c'era il bisogno del tuo supporto vabbè ci sei stato lo stesso come tuo solito e sei riuscito a toccare i cuori di ognuno e a rendere sempre leggero un argomento ostico però basta guardarlo da un'altra prospettiva e diventa leggero ecco grazie grazie a voi ok allora se gentilmente grazie a tutti